Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 30 luglio 2011. Eletti, amici cari, se io, io, Dio, sono con voi, sono per voi, chi può essere contro di voi? Sposa cara, sposa fedele, la mia presenza viva nella vita deve dare gioia, pace e sicurezza. Può mai accadere qualcosa che io, io, Dio, non veda, non sappia, non conosca? No, piccola mia, nulla accade che non sia sotto il mio sguardo. Questo non deve dare gioia al cuore e pace all'anima? Certo che così deve essere, per logica. Gli uomini della Terra sono, in gran parte, nell'inquietudine, sono nell'ansia e pieni di timori di ogni genere. Piccola mia, ti sei chiesta perché tutto questo avviene? Mi dici dolce amore, la risposta, che ho dato è questa il tempo nuovo sta entrando, ma non è entrato, quando sarà entrato l'uomo sarà pieno di gioia, di pace, di speranza. Dolce amore, questa è la mia risposta. Capisco che tutto il tuo progetto è in atto, vedo che tutto sta compiendosi nel tuo tempo. Dolce amore, il tuo tempo non è quello umano. Sposa cara, bene hai compreso tutto sta avvenendo in modo speciale, secondo il mio tempo e la mia logica. Ancora il cambiamento procede con gradualità, ma si avvicina il momento nel quale tutto si svolgerà rapidamente, le ultime fasi del cambiamento saranno molto rapide ed ogni uomo deve essere pronto per quando questo accadrà. Sposa cara, c'è troppa ansia nei cuori, poco ardore per le cose del cielo e troppo per quelle della terra. Vedi, sposa mia cara, come gli uomini ancora non sono pronti al cambiamento? Vedi come essi non hanno compreso, in gran parte, l'importanza del tempo? Di ogni giorno di vita? Alcuni dicono e ripetono un giorno è come l'altro, ciò che è avvenuto ieri avviene oggi. Questa affermazione è falsa ed insensata ogni giorno di vita è diverso dall'altro, deve essere vissuto nella sua diversità, è un mio dono prezioso e tale deve essere considerato. Hai compreso bene, piccola sposa, il senso delle mie parole? Mi dici dolce amore, capisco che l'uomo deve vivere ogni giorno con attenzione alle cose del cielo, senza farsi sviare dalle cose passeggere della terra, questo deve fare, perché la meta è il cielo, è il paradiso, che tu hai preparato per coloro che fanno la tua volontà. Dolce Gesù, vedo con tristezza, che sono ancora pochi coloro che pensano al cielo, che pensano ad esso, come meta sublime da raggiungere. Vedo che anche in questo grande momento storico, dove tutto parla di cambiamento, gli uomini fissano lo sguardo avido sulle cose della terra, vedo, dolce amore, che pochi hanno lo sguardo al cielo e molti si stanno attaccando alla terra come se mai dovessero lasciarla. Ogni uomo dovrebbe ripetersi lungo la giornata paradiso, paradiso, paradiso e prepararsi attivamente, ma non è così, non è proprio così. L'uomo guarda con occhio sempre più avido la terra e trema al pensiero di doverla lasciare. Ti supplico, amore infinito, risveglia nei cuori il desiderio del paradiso, chi in questo tempo è molto sopito. Ogni uomo dovrebbe pensare alle meraviglie date promesse e gioire per sé, perché tu, Gesù, mantieni sempre quello che prometti. Dovrebbe, ogni uomo, essere nella pace del cuore, nella gioia, vedendo che la tua presenza è viva e palpitante sulla terra, sempre di più. Vedo nei cuori tanta ansia, tanto gelo verso le cose del cielo, invece, un ardore esagerato per le cose della terra. Dolce amore, cambia i cuori, le menti, ogni uomo pensi alle cose del cielo, vivendo sulla terra come un viandante frettoloso. Sposa amata, bene hai detto. Ogni uomo deve vivere, in questo momento, sulla terra come un viandante frettoloso, che corre gioioso per raggiungere la vera meta il cielo. Piccola mia, le grazie scendono per le suppliche delle anime belle, ognuno le colga. Vivi felice nel mio cuore e godi nelle delizie ed amore di questo giorno. Ti amo. Vi amo. Gesù opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 31 luglio 2011 Eletti, amici cari, restate in me, restatemi fedeli, contate su di me, vi dono ogni cosa nel mio amore. Sposa amata, chi resta in me è come un tralcio unito alla sua vite, che porta frutto, ma chi si stacca da me, Dio, è come uno che secca e da nulla serve, che ad essere gettato nel fuoco. Sposa amata, l'uomo senza di me non può fare, nulla può fare, è come il tralcio staccato dalla sua vite ingiallisce e muore. Credi che molti abbiano capito questa grande verità? No, chi dico, piccola mia, pochi sono quelli che hanno compreso in grande numero coloro che si illudono di potersi realizzare da soli, senza di me. Mi dici dolce amore, vedo che grande è il tuo dolore per coloro che non vogliono capire, l'importanza di essere tuoi, e vivono nella freddezza. Quando vedo triste il tuo volto sublimissimo, provo anch'io una profonda tristezza e vorrei fare qualsiasi cosa per consolarti. Molti pensano che la tua passione si sia conclusa dopo la gloriosa resurrezione. Molti pensano questo, ma non è così, Santissimo Gesù, dolce amore, la tua passione continua per la perdita delle anime che si presentano impreparate al tuo tribunale e si perdono, miseramente, nell'abisso di eterna disperazione. Tu, Santissimo, fai tutto per la salvezza delle anime e nulla certo trascuri, ma sono ancora in gran numero quelle che vogliono vivere come se tu non fossi il creatore, il salvatore, lo spirito d'amore. Vorrei dire ad ogni uomo corri, senza indugio, tra le braccia aperte di Gesù, contempla ed adora la croce, vessillo di salvezza per ogni uomo. Vorrei dire questo agli uomini della Terra, ma capisco che essi, ancora, malgrado i segni incisivi, non hanno nulla compreso dell'urgenza di convertirsi per avere salvezza. Talora, penso il Signore Santissimo, che usa per il mondo, per ogni uomo, la sua misericordia, può anche passare rapidamente alla perfetta giustizia, a causa dell'ostinazione e ribellione generale. Vado col pensiero al passato, penso al diluvio, penso a Sodoma e Gomorra, penso a Gerusalemme circondata da trincee, penso a tutto questo, dolce amore, penso e tremo come foglia scossa dal più forte vento. Se tu dovessi passare subito alla perfetta giustizia, chi resterebbe sulla Terra? Chi resterebbe sul bel pianeta, abitato da miliardi e miliardi di uomini, come mai era capitato nella storia? Dolce amore, ai tuoi piedi imploro la tua misericordia e non cesso di farlo, finché non vedo volti verso il mondo i tuoi occhi amorosi. Ecco, dolcezza infinita, Dio Santissimo, sei davanti a me nella tua meravigliosa imponenza, il tuo sguardo e volto al mondo capisco che in questo momento penetri in ogni cuore, stai scandagliando ogni anima, leggo sul tuo volto, sublimissimo, ledo tristezza. Quante anime sono ancora lontane da te, amore? Quante non cercano il tuo volto, ma si lasciano trascinare via dal vento tempestoso? Perdona, dolce amore, continua a perdonare, non accada in questo tempo ciò che avvenne in quello del diluvio. Tutti mangiavano e bebevano, curavano i loro affari e si sposavano, quando cominciò a piovere e non cessò per quaranta giorni e quaranta notti e tutto fu sommerso, tutto peri. Non accada come avvenne nel tempo di Lod, quando piodvero dal cielo fuoco e zolfo e pochi trovarono scampo. Non accada come, quando Gerusalemme fu circondata da trincee e fu distrutta. Dolce amore, ho nel cuore questo timore, vedendo quello che accade sulla terra. Sposa cara, già ti ho detto ed ora ripeto, che sono pronte grandi cose, vorrei che ogni uomo della terra fosse pronto per contemplare le mie più grandi meraviglie e nessuno fosse indegno. Non è così, sposa amata, non è così, sposa fedele. Io, io, Gesù, che vorrei dare tutto ad ogni uomo, prima sulla terra e poi in cielo, devo togliere tutto agli indegni. Essi cercheranno, ma non troveranno, busseranno, ma nessuno aprirà, verseranno tante lacrime, ma chi consolerà il loro dolore? Sposa amata, ognuno capisca che è urgente, è molto urgente convertirsi. Resta felice nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo, vi amo, Gesù.